Un incubo quello che hanno vissuto automobilisti e camionisti questo weekend sull'A14. Ieri la fila dei mezzi sul tratto tra Pescara e Pineto raggiungeva gli 8 chilometri di lunghezza. Ma ora potrebbe esserci la svolta. Autostrade per l'Italia, la società dei Benetton che gestisce l'A14, promette che entro la fine di luglio tutti i lavori notturni saranno terminati e che con l'ok della procura di Avellino, giunto nelle ultime ore, sarà ripristinata la viabilità a due corsie sui viadotti. I viadotti sequestrati dalla procura sono 13, di cui 8 in Abruzzo e 5 nelle Marche. Nel frattempo però la viabilità è ancora paralizzata, una storia che si ripete se si pensa all'emergenza traffico del periodo natalizio scorso. Questa volta però la società dei Benetton ha deciso la riduzione del costo del pedaggio del 50%, forse anche perché alle strette dopo la bufera mediatica delle ultime settimane riguardo il ponte Morandi di Genova. Lo sconto è previsto per il tratto tra il casello San Benedetto del Tronto e quello Val di Sangro, il che ha fatto infuriare i sindaci di Vasto e San Salvo. L'Abruzzo non può essere diviso in due, è ciò che sostengono i primi cittadini del sud della regione. Il governatore Marco Marsilio intanto sta valutando se chiedere i danni per le ripercussioni del traffico sull'economia. Andrea Scordella, sindaco di Silvi, uno dei comuni che maggiormente patisce questa situazione, si è detto pronto a spalleggiare la regione. Noi siamo pronti sicuramente a spalleggiare perché le nostre attività commerciali sono in difficoltà e i nostri operatori commerciali e turistici naturalmente non vanno a beneficiare di questa situazione ma ad aggravare una situazione che per l'emergenza Covid sicuramente può essere disastrosa per l'intero territorio. Nel frattempo i tir si riversano sulla SS16. Il senatore Luciano D'Alfonso, capogruppo del PD in Commissione Finanze, ha annunciato che scriverà presto una lettera al ministro delle infrastrutture Paola De Micheli. L'intenzione è quella di consegnare la statale ad Anas, l'azienda nazionale autonoma delle strade. La proposta è stata rilanciata anche dal leghista Scordella, secondo il quale, seppur avversario politico di D'Alfonso, affidare la gestione ad Anas potrebbe anche rappresentare una spinta alla realizzazione della variante della statale che è già stata inserita dalla regione Abruzzo nel piano delle opere strategiche. Questa non è una questione partitica o politica, è una questione, diciamo, di risolvere una problematica per un territorio, per un intero territorio e soprattutto per una comunità che sta soffrendo veramente questa difficoltà. Il Comune di Silvi non può garantire una gestione sia di manutenzione che di sicurezza di un tratto che ormai non è più locale, ma è un tratto veramente a tutti gli effetti nazionale e internazionale. Considerate che ormai la statale 16 nelle chiusure della 14 diventa un passaggio del corridore europeo e perciò il flusso veicolare sicuramente è un flusso importante che il Comune di Silvi non può da solo gestire.